Sherlock Holmes e l'avventura di Socomball Place di Arthur Conan Doyle Holmes era chino da un pezzo sul microscopio di potenza limitata. All'improvviso si alzò guardandomi con aria trionfante. «Ecolla, Watson», disse. «Colla, senza il minimo dubbio. Guardi questi oggetti sparsi sul vetrino». Mi accostai alla lente, la adattai ai miei occhi e lui disse «Quei fili provengono da una giacca di tweed. Quelle masse grigie irregolari sono polvere. A sinistra, invece, scaglie epitegliali. Quelle macchioline marroni al centro sono sicuramente colla». «Bene, sono pronto ad accettare la sua parola», dissi ridendo. «Ma a che cosa servono?» «Una dimostrazione perfetta», mi rispose. «Nel caso di San Pancreas ricorderà che accanto al poliziotto morto fu trovato un berretto. L'accusato nega che sia suo, ma è un corniciaio che maneggia abitualmente la colla. È uno dei suoi casi? No, è il mio amico Merivale di Scottra Yard che mi ha chiesto di darci un'occhiata. Da quando ho smascherato quel falsario grazie ai filamenti di rame e zinco nelle cuciture dei suoi polsini, hanno cominciato a capire l'importanza del microscopio. Dopodiché cominciò ad osservare l'orologio con aria impaziente. «Aspettavo un nuovo cliente, ma in ritardo. A proposito, Watson, lei si intende di corsi di cavalli, per caso?» «Direi, amico mio, mi costano circa la metà della mia pensione di guerra. Allora la nomino mia guida pratica all'Ippica. Che cosa mi sa dire di Sir Robert Norberton? Il nome, per caso, le rammenta a qualcosa?» «Beh, direi proprio di sì. Vive a Socomball Place, che conosco bene perché, un tempo, da quelle parti c'era il nostro campo estivo. Una volta ci è mancato poco che dovesse occuparsi di lui.» «Come sarebbe a dire?» «Fu quando prese a frustate Sam Brewer, il famoso strozzino di Carlton Street, sul campo da corsa di Newmarket. Ci mancò poco che lo ammazzasse.» «Ah, un tipino interessante, insomma. Si abbandona spesso ad eccessi di questo genere?» «Ha fama di essere un individuo molto pericoloso. È forse il più spericolato cavaliere di tutta Inghilterra. Uno di quegli uomini che vanno molto oltre la loro generazione. Avrebbe dovuto essere uno zerbinotto all'epoca della regenza. Pugile atleta, scommettitore sui cavalli, amante delle belle donne e, a detta di tutti, così squattrinato che probabilmente non riuscirà mai più a rimettersi in sesto.» «Magnifico, Watson, magnifico! Mi sembra già di conoscerlo. Ora, può darmi qualche idea su Socomball Place?» «Sol soltanto che sorge al centro di Socom Park e che ospita la famosa scuderia e scuola di Ipica. E il capo istruttore è John Mason», aggiunse Holmes. «Non si sorprenda se io so queste cose, Watson, perché questa lettera proviene proprio da lui.» «Ma sentiamo qualcos'altro su Socombe. Sembra che io abbia trovato una vena d'oro.» «Ci sono gli Spaniel di Socombe», dissi. «Se ne sente parlare ad ogni mostra canina, la razza più pregiata di tutta l'Inghilterra, orgoglio e vanto della padrona di Socomball Place.» «La moglie di Sir Robert, immagino.» «No, Sir Robert non si è mai sposato e direi che è meglio così, considerate le sue condizioni finanziarie.» «Vive con la sorella, Lady Beatrice Folder.» «Vuol dire che lei abita con lui.» «No, amico mio.» «Il posto apparteneva al defunto marito, Sir James.» «Norberton non può vantare alcun diritto.» «Lady Beatrice ne ha solo l'usufrutto a vita, poi la proprietà tornerà al fratello del marito, ma nel frattempo ne riceve una rendita annuale.» «E immagino che a spendere la suddetta rendita sia il fratello Robert.» «Più o meno sì. È un tipo impossibile e deve renderle la vita molto difficile.» «Eppure ho sentito dire che lei gli è molto affezionata.» «Ma che cos'è che non va a Socombe?» «È proprio quello che vorrei sapere. E se non sbaglio, ecco l'uomo che può dircelo.» «La porta si era aperta e il fattorino aveva fatto entrare un uomo alto, senza barba né baffi, con l'espressione ferma e austera di chi deve tenere a freno cavalli o ragazzini.» «Il signor John Mason, in effetti, gli aveva entrambi sotto il suo controllo e appariva adeguato al suo compito.» «Sinchinò con un freddo autocontrollo, sedendosi poi sulla sedia che Holmes gli aveva indicato con un cenno della mano.» «Ha ricevuto il mio biglietto, signor Holmes.» «Sì, ma non spiegava nulla.» «Si trattava di una faccenda troppo delicata perché potessi metterne i particolari sulla carta.» «È troppo complicata. Potevo parlarne soltanto faccia a faccia.» «Bene, siamo a sua disposizione.» «Per prima cosa, signor Holmes, credo che il mio datore di lavoro, Sir Robert, sia diventato pazzo.» Holmes inarcò le sopracciglia. «Questa è Baker Street, signore, non Harley Street», disse. «Ma in ogni caso, cosa glielo fa pensare?» «Beh, signore, quando un uomo commette una stranezza o due, può anche esserci un motivo. Ma quando tutto quello che fa è strano, allora si cominciano ad avere dubbi.» «Credo che Socon Prince e il Derby lo abbiano fatto uscire di testa.» «È un puledro che avete iscritto?» «Il migliore d'Inghilterra, signor Holmes. E se qualcuno lo sa bene, questo sono proprio io.» «Ora sarò molto franco con lei.» «Perché so che siete uomini d'onore e quanto vi dirò non uscirà dalle pareti di questa stanza.» «Sir Robert deve assolutamente vincere il Derby. È indebitato fino al collo e questa è la sua ultima occasione. Tutto quello che è riuscito a racimolare o farsi prestare l'ha puntato su questo cavallo e anche con una quotazione molto vantaggiosa. Ora lo danno a quaranta, ma quando cominciò a sostenerlo lo davano quasi a cento.» «Come mai sei un così buon cavallo?» «La gente non sa fino a che punto sia buono. Sir Robert è stato molto intelligente con gli informatori. Per i giri in pista si è servito del fratellastro di Prince. Impossibile distinguerli, ma quando si tratta di galoppare, Prince lo distanzia di due lunghezze. Non pensa ad altro che al cavallo e a questa corsa. Si è giocato la vita. Fino a quel momento riuscirà a tenere a bada gli struzzini, ma se Prince perde, lui ha chiuso.» «Mi sembra un gioco piuttosto disperato, ma dove sta la pazzia?» «Beh, prima di tutto, basta guardarlo. Credo che la notte non chiuda occhio. Sta in continuazione nelle scuderie. Ha gli occhi stralunati, i suoi nervi sono troppo scossi. Poi c'è il suo comportamento nei confronti di Lady Beatrice.» «Ah, e di che cosa si tratta?» «Sono sempre stati ottimi amici. Hanno gli stessi gusti e lei amava i cavalli quanto lui.» Ogni giorno alla stessa ora arrivava con la carrozza per vederli e soprattutto amava Prince. Quando sentiva il rumore delle ruote sulla ghiaia, il cavallo drezzava le orecchie e tutte le mattine trotterellava verso la carrozza per prendersi la sua zolletta di zucchero. Ma ora tutto questo è finito.» «E perché?» «Beh, sembra che Lady Beatrice abbia perduto qualsiasi interesse nei cavalli. Oramai, da una settimana, passa in carrozza davanti alle scuderie senza nemmeno dire un buongiorno.» «Lei crede che ci sia stata una lite?» «Una lite violenta, amare e astiosa, secondo me.» «Per quale altro motivo lui avrebbe regalato ad altri lo Spaniel, il cagnolino che la signora amava come se fosse suo figlio?» «L'ha regalato qualche giorno fa al vecchio Barners, il padrone del Green Dragon, a tre miglia di distanza, a Cardiff.» «Beh, questo sembra davvero molto strano.» «Certo, col cuore debole e l'idropisia, non si poteva pretendere che la signora andasse in giro con lui, ma ogni sera lui passava due ore nella stanza di Lady Beatrice, ed era giusto che facesse il possibile, perché lei gli si è dimostrata davvero un'amica preziosa. Ma ora tutto è cambiato. Lui non le si accosta nemmeno. Lei ci soffre, si cruccia, è di malumore e beve, signor Holmes. Beve come una spugna.» «Beveva anche prima di questo dissidio?» «Beh, il suo bicchiere lo beveva, ma spesso si tratta di un'intera bottiglia in una sola sera.» «Così mi ha detto Stevens, almeno, il maggiordomo.» «Tutto è cambiato, signor Holmes, e c'è qualcosa di maledettamente poco chiaro in questa faccenda.» «E poi, perché ogni notte il padrone scende nella cripta della vecchia chiesa? E chi è l'uomo che incontra laggiù?» Holmes stropicciò le mani. «Continui, signor Mason, continui. Il suo racconto è sempre più interessante.» «È stato il maggiordomo che lo ha visto andarci.» «Era mezzanotte e diluviava. Così la notte successiva sono andato su alla casa e neanche a dirlo il padrone uscì di nuovo.» «Stevens e io lo seguimmo, ma dovevamo stare molto attenti, perché se ci avesse visto sarebbero stati guai. Quando comincia i suoi pugni non scherzano e non rispetta nessuno. Quindi avevamo paura ad avvicinarci troppo, ma lo abbiamo visto e come. Era la cripta dei fantasmi che si stava dirigendo e lì c'era un uomo ad aspettarlo.» «Che cosa sarebbe questa cripta dei fantasmi? Vede, signor Holmes, nel parco c'è un'antica cappella in rovina. È così antica che nessuno sa quando risale. Sotto c'è una cripta che fra di noi ha una bruttissima fama. Di giorno è un luogo sicuro, umido e solitario, ma pochi nella contea avrebbero il coraggio di andarci di notte. Ma il padrone non ha paura. Non ha mai avuto paura di niente in vita sua, a dire il vero. Ma che cosa ci fa lì e in più di notte? «Aspetti un momento», disse Holmes. «Lei dice che c'è un altro uomo. Deve essere uno dei suoi garzoni di scuderia o qualcuno di casa. Sicuramente basterebbe solo identificarlo e fargli qualche domanda.» «Non è nessuno che io conosca, signore.» «E come può dirlo?» «Beh, perché l'ho visto in faccia, signor Holmes.» «È stata la seconda notte.» «Ser Robert ha girato e ci ha passato accanto, a me e Stephens, che eravamo acquattati dietro i cespugli come due conigli tremanti perché quella notte c'era un po' di luna. Ma potevamo sentire l'altro che camminava dietro di lui e di quell'altro non avevamo la minima paura. Perciò, quando Ser Robert fu passato, uscimo fuori e facciamo finta di passeggiare sotto la luna, così gli capitammo addosso con l'aria più casuale e innocente possibile. «Salve, amico, chi è lei?» gli domandai. Immagino che non ci avesse sentito arrivare perché si guardò dietro alle spalle con una faccia come se avesse appena visto il demonio in persona uscire dall'inferno. Lanciò un urlo e fuggì con tutta la velocità possibile in quel buio. «E come correva, signore? Devo dargliene atto!» In un momento fu fuori dalla portata della nostra vista e chiunque fosse o che cosa fosse non lo scoprimmo mai. «Ma lo avete visto chiaramente alla luce della luna?» «Certamente e giurerei che la faccia era gialla. Uno squallido individuo, direi. Cosa poteva avere in comune con Sir Robert?» Holmes era assorto nei suoi pensieri e alla fine chiese «Mi dica, chi tiene compagnia Lady Falder?» «La sua cameriera, Carrie Evans, è con lei da circa cinque anni. E le è molto affezionata, suppongo». Il signor Mason aveva un'aria imbarazzata. Alla fine rispose «Per essere affezionata lo è, ma preferisco non dire a chi». «Ah!» esclamò Holmes. «Non posso raccontare sigreti altrui, mi capisce?» «Certo, capisco benissimo signor Mason. Naturalmente la situazione è abbastanza chiara. Dalla descrizione che il dottor Watson ha dato di Sir Robert, mi rendo conto che nessuna donna è al sicuro con lui». «Non pensa che possa essere quello il motivo della lite fra fratello e sorella?» «Beh, ormai è uno scandalo che tutti conoscono e anche da parecchio tempo». «Ma forse lei non lo sapeva?» «Supponiamo che lo abbia improvvisamente scoperto. Vuole liberarsi di quella donna. Il fratello non glielo permette. L'invalida per via del cuore debole e dell'impossibilità di muoversi non ha modo di far valere la sua volontà. L'odiosa domestica le sta ancora attorno. La signora rifiuta di parlare e di malumore e comincia a bere. Sir Robert ha dirato le porta via il cagnolino. Non le sembra che combaci tutto quanto?» «Beh, in quanto questo sì, potrebbe». «In quanto questo, esattamente». «Ma che nesso potrebbe avere con le visite notturne alla vecchia cripta? Quello è un tassello che non si incastra». «No, signore, e c'è qualcos'altro che non si incastra. Perché mai Sir Robert dovrebbe volere esumare un cadavere?» Holmes rizzò bruscamente a sedere. «Lo abbiamo scoperto solo ieri, dopo che le avevo scritto. Sir Robert era andato a Londra e così Stevens e io siamo scesi nella cripta. Era tutto in ordine, tranne il fatto che in un angolo c'era un pezzo di corpo umano. avrete informato la polizia, suppongo». Il nostro visitatore ebbe un sogghigno. «Beh, non credo che la cosa gli avrebbe interessati. Erano solo la testa e qualche ossa di una mummia. Poteva risalire a mille anni fa, ma prima non c'era e sono pronto a giurarlo e Stevens pure. Era stato cacciato in un angolo e coperto con una tavola, ma prima quell'angolo era sempre stato vuoto». «E che cosa ne avete fatto? L'abbiamo lasciato dove era?» «Bene, molto saggio. Dice che ieri Sir Robert era fuori, ora è tornato? Lo aspettiamo oggi di ritorno». Quando è stato che Sir Robert ha dato via il cane di sua sorella? Esattamente otto giorni fa. La bestiola stava latrando accanto alla stanza sul vecchio pozzo e quella mattina Sir Robert aveva i nervi a fior di pelle. L'ha afferrata e pensai che l'avrebbe uccisa poi l'ha consegnata a Sandy Bane il fantino dicendola di portare il cane dal vecchio Barners al Green Dragon perché non voleva vederselo mai più fra i piedi. Holmes riflette per un po' in silenzio con in bocca la sua più vecchia e puzzolente pipa. «Non ho ancora capito cosa vuole che io faccia in questa storia però, signor Mason», disse. «Non potrebbe essere un po' più preciso?» «Questo forse lo renderà più preciso, signor Holmes», rispose il nostro ospite. Si cavò di tasca un involto e scartandolo mostrò un frammento d'osso carbonizzato. Holmes lo esaminò con interesse e poi chiese «Dove l'ha preso?» «In cantina, sotto la stanza di Lady Beatrice. C'è una vecchia caldaia per il riscaldamento. È rimasta spenta per un certo tempo, ma Sir Robert si è lamentato del freddo e l'ha fatta riaccendere. Se ne occupa Harvey, uno dei miei ragazzi. Proprio questa mattina è venuto da me per mostrarmi questo. Lo aveva trovato smuovendo la cenere. Aveva un aspetto che non gli piaceva per nulla.» «Non piace neanche a me», disse Holmes. «Lei che ne pensa, Watson?» Era completamente carbonizzato, ma non ci si poteva sbagliare sulla sua identità anatomica. «È il condilo superiore di un femmer umano», dissi. «Esattamente.» Holmes si era fatto molto serio. «Quand'è che questo ragazzo si occupa della caldaia?» «La carica ogni sera e dopo di che se ne va.» «Così che chiunque potrebbe andarci durante la notte.» «Sì, signore.» «Si può cedere la caldaia dall'esterno?» «C'è una porta che dà all'esterno e un'altra che, attraverso una scala, porta al corridoio dove c'è la stanza di Lady Beatrice.» «Stiamo navigando in cattive acque, signor Mason. Cattive e piuttosto sporche. Lei dice che ieri sera Sir Robert non era in casa.» «Infatti, signore.» «Allora, chiunque stesse bruciando delle ossa non era lui.» «È così, signore.» «Come ha detto che si chiama la locanda di cui ha parlato? Il Green Dragon.» «E si pesca bene in quella zona del Berkshire?» domandò. L'espressione dell'onesto allenatore mostrava molto chiaramente come fosse convinto che nella sua già tormentata esistenza era entrato un altro pazzo. «Beh, signore, ho sentito che ci sono delle trotte nel ruscello del mulino e dei luci nel lago Hall.» «Va benissimo. Watson ed io siamo famosi pescatori, non è vero, Watson?» «In futuro ci troverà il Green Dragon. Dovremmo arrivarci questa sera. Inutile dirle che non vogliamo incontrarla, signor Mason, ma un suo biglietto ci verrà sicuramente recapitato e se avessi bisogno di lei saprò di certo come trovarla. Quando avremo esaminato la faccenda più a fondo le farò sapere che cosa ne penso.» Fu così che in un luminoso pomeriggio di maggio Holmes ed io ci trovammo da soli in uno scompartimento di prima classe diretti alla piccola stazioncina facoltativa di Socomba. Le retticelle sulle nostre teste traboccavano di un formidabile assortimento di canne, mulinelli e cestini. Arrivati a destinazione una breve corsa in carrozza ci portò a una locanda a vecchio stile dove un anfitrione sportivo si interessò molto ai nostri piani di far sparire tutti i pesci del dintorni. «Che cosa mi dice del lago di Hall? C'è speranza di qualche luccio?» chiese Holmes. Il taverniere si rabuiò. «Glielo consiglio, signore, rischierebbe di trovarsi nel lago prima di aver pescato.» «E come mai?» «San Roberts, signore, ha una paura matta degli informatori. Se scoprisse due sconosciuti così vicini alle sue scuderie vi piomberebbe addosso, certo come la morte.» «Non vuol correre rischi, San Roberts.» «Ho sentito che hai scritto uno dei suoi cavalli al derby.» «Sì, un bel puledro. Abbiamo scommesso tutti su di lui e anche San Robert, fino all'ultimo centesimo.» «A proposito, non è che siete per caso due dell'ippodromo?» «Assolutamente no. Solo due londinesi stanchi e annoiati che hanno estremo bisogno di una buona boccata d'aria del Berkshire.» «Allora, siete venuti nel posto giusto. Di aria ce n'è quanta ne volete. Ma ricordate quello che vi ho detto a proposito di San Robert. È il tipo che prima colpisce e poi parla, capite? Girate alla larga dal parco, mi raccomando.» «Ma certo, signor Barners, lo faremo sicuramente. A proposito, è davvero un bel spagnol quello che sta uggiolando all'ingresso.» «E come, pura razza di Socomb, non ce n'è di migliori in tutta l'Inghilterra.» «Amo molto i cani», disse Onze. «Ora, se posso chiederglielo, quanto costerebbe un campione come quello?» «Più di quanto potrei permettermi, signore. È stato San Robert in persona a darmelo. Ecco perché devo tenerlo al guinzaglio. Se lo lasciassi libero, tornerebbe a casa in un lampo.» «Ci sta arrivando qualche carta in mano, Watson», disse Olms quando il taverniere se ne fu andato. «Non sono carte facili da giocare, ma in un paio di giorni forse ne avremmo di migliori.» «A proposito, a quanto ho saputo, San Robert è ancora a Londra. Può darsi che questa notte potremmo entrare nel suo sacro territorio senza timore di venire aggrediti?» «Ci sono un paio di punti su cui vorrei una conferma.» «Ha qualche teoria, Holmes?» «Solo questa, Watson, che più o meno una settimana fa è accaduto qualcosa che ha avuto profonde ripercussioni sulle persone che vivono a Socombe.» «Ma che cosa?» «Non possiamo avanzare che ipotesi sulla base degli effetti.» «Effetti che sembrano stranamente eterogenei.» «Il che, però, dovrebbe aiutarci.» «È solo il caso incolore, senza eventi particolari, quello che non si riesce a risolvere.» «Ora, consideriamo i fatti.» «Il fratello non va più a trovare l'amata sorella invalida e dà via il suo cagnolino preferito.» «Il cane, Watson, questo non le suggerisce niente?» «Niente, al di fuori della malvagità del fratello.» «Può darsi.» «Oppure...» «Beh, ci sarebbe un'alternativa.» «Ora, per continuare il nostro esame della situazione, a partire dal giorno della lite, sempre se ci fu una lite, la signora rimase chiusa nella sua camera, modifica le sue abitudini, non la si vede più, tranne quando passa in carrozza con la cameriera, rifiuta di fermarsi alle scuderie per salutare il suo cavallo preferito e, a quanto sembra, comincia a bere.» «E mi pare che questo sia tutto, o sbaglio?» «Beh, tranne l'episodio della cripta.» «Quella è un'altra faccenda. Ce ne sono due e la prego di non mischiarle.» «L'indagine A riguarda Lady Falder e mi sembra che presenti un carattere vagamente sinistro, non crede?» «Beh, io non ci trovo né capo né coda.» «Bene, passiamo ora all'indagine B che riguarda Sir Robert.» «Spera con tutte le sue forze di vincere il derby, è nelle mani degli strozzini e da un momento all'altro può andare in rovina e le sue scuderie possono venire confiscate dai creditori.» «È un uomo audace e disperato. La sua rendita gli viene dalla sorella. La cameriera della sorella è il suo docile strumento. Finora mi sembra che andiamo sul sicuro o sbaglio.» «Ma la cripta?» «Ah, già, la cripta. Supponiamo, Watson, ed è solo una supposizione azzardata, che Sir Robert abbia fatto fuori la sorella.» «Mio caro Holmes, questo è fuori discussione.» «È possibile, Watson. Sir Robert proviene da una famiglia onorevole, ma a volte si trova un avvoltoio fra le aquile. Partiamo per un momento da questa ipotesi. Non poteva lasciare il paese fino a quando non avesse realizzato un capitale, e quel capitale lo poteva realizzare solamente se Socon Prince avesse vinto il derby. Quindi è costretto a rimanere, e per poterlo fare doveva disfarsi del corpo della sua vittima e anche trovare una persona che la sostituisse agli occhi della gente. Con la complicità della cameriera non sarebbe stata una cosa impossibile. Si poteva trasportare il cadavere della donna nella cripta, dove non va quasi mai nessuno, e durante la notte distruggerlo segretamente dentro la caldaia, lasciando solo quella piccola prova che abbiamo già visto. Lei che cosa ne dice, Watson? Beh, accedendo a questa ipotesi mostruosa, tutto è possibile. Penso che ci sia un piccolo esperimento che potremo tentare domani, Watson. Frattanto, se vogliamo avvalorare la nostra fittizia personalità, suggerirei di invitare il nostro anfitrione a bere con noi un bicchiere del suo vino e intrattenerlo con una dotta discussione su anguille e cavedani, che sembrano costituire la più rapida via per il suo cuore. Potremmo venire a conoscenza di qualche utile pettegolezzo in questa maniera. La mattina dopo, Holmes si accorse che non avevamo portato il cucchiaino per pescare i lucci, il che giustificò la nostra impossibilità di andare a pesca quel giorno. Verso le undici ci avviamo per una passeggiata e ottenne il permesso di portare con sé lo spaniel. Il posto è questo, disse quando arrivamo davanti a due alti cancelli sormontati dai grifoni araldici. A quanto mi ha detto Barners, verso mezzogiorno la vecchia signora esce in carrozza e la carrozza deve rallentare mentre vengono aperti i cancelli. Quando passa e prima che acquisti velocità, voglio che lei, Watson, fermi il cocchiere con una qualsiasi domanda. Non si preoccupi di me, resterò dietro al cespuglio ad osservare quel che succede. l'attesa non fu lunga. Dopo circa un quarto d'ora vedemmo il grosso calesse giallo, aperto, giungere dal fondo del viale, tirato da due splendidi cavalli grigi al trotto. Holmes si accucciò dietro al cespuglio con il cane. Io, con aria indifferente, rimasi in mezzo alla strada addondolando il bastone da passeggio. Un custode corse fuori e i cancelli si aprirono lentamente. I cavalli andavano ora al passo e potei dare una buona occhiata agli occupanti del calesse. A sinistra sedeva una donna del colorito acceso, capelli biondissimi e occhi impudenti. Alla sua destra una persona anziana con la schiena curva, il volto e le spalle imbacuccate negli scialli. Tutto indicava la sua invalidità. Quando i cavalli arrivarono sulla strada alzai una mano in gesto autoritario e mentre il cocchiere tirava le redini chiesi se Sir Robert si trovava a Socconball Place. In quello stesso istante Holmes sbucò da dietro il cespuglio e lasciò libero lo spaniel. Con un latrato di gioia il cane si slanciò verso la carrozza e saltò sul predellino. Subito dopo i suoi latrati di gioia si trasformarono in un ringhio rabbioso mentre i denti si serravano sulla gonna scura sopra di lui. Avanti, avanti gridò una voce roca. Il cocchiere frustò i cavalli e fumo lasciati indietro in mezzo alla strada. «Bene, Watson, ecco la prova conclusiva», disse Holmes riagganciando il guinzaglio al collo dello Spagna l'agitatissimo. Ha creduto che fosse la sua padrona e ha scoperto che invece si trattava di una sconosciuta. I cani non sbagliano mai. «Ma era la voce di un uomo!» esclamai. «Esattamente! Ora abbiamo un'altra carta in mano, Watson, ma dobbiamo ugualmente fare attenzione a come giocarla!» Sembrava che per quel giorno il mio amico non avesse altri progetti e usammo effettivamente la nostra attrezzatura da pesca nel ruscello del mulino col risultato che per cena mangiammo delle ottime trote. Solo dopo cena Holmes diede segni di nuova attività. Ancora una volta ci trovammo sulla stessa strada del mattino diretti ai cancelli del parco. Lì ci attendeva una figura alta e scura che si dimostrò essere la nostra recente conoscenza londinese, John Mason. «Buonasera, signori», disse. «Ho ricevuto il suo biglietto, signor Holmes. Sir Robert non è ancora tornato, ma ho sentito dire che lo aspettano per questa notte». «Quanto dist la cripta dalla casa?» domandò Holmes. «Un buon quarto di miglio». «Allora penso che possiamo ignorarlo del tutto». «Non posso permetterlo, signor Holmes. Nel momento stesso in cui arriva vorrà vedermi per avere le ultime notizie su Socon Prince». «Certo, capisco. In questo caso dovremmo agire senza di lei, signor Mason. Ci indichi la via, poi se ne vada pure». Era buio pesto ed era una notte senza luna, ma Mason ci guidò attraverso i prati fino a che una massa scura ci apparve di fronte. Era l'antica cappella. Entrammo in uno spazio in rovina che una volta era stato il portico e la nostra guida inciampando fra cumuli di detriti raggiunse l'angolo del fabbricato dove una ripida scala conduceva alla cripta. Accendando un fiammifero illuminò quel luogo desolato, tetro e maleodorante con le mura diroccate e di pietra grezza e cataste di bare, alcune di piombo e altre di marmo che si estendevano da un lato fino alle arcate a costoni del soffitto che scompariva nell'ombra sopra le nostre teste. Holmes aveva acceso la sua lanterna che gettava un minuscolo cono di vivida luce gialla su quella macabra scena. I raggi si riflettevano sulle targhe funerarie, molte delle quali sfoggiavano il grifone e le corone gentilizie dell'antica famiglia che si era portata alle sue onorificenze fino alle porte della morte. Lei ha parlato di ossa signor Mason prima di andarsene potrebbe indicarci dove si trovano? Sono in quest'angolo l'allenatore si avvicinò al punto indicato poi rimase immobile e sbalordito mentre la nostra lanterna illuminava il suo viso Ma sono sparite? Me lo aspettavo ridacchiò Holmes immagino che potremmo trovarne le ceneri nello stesso forno che le aveva in parte già consumate Ma per che razza di motivo qualcuno avrebbe dovuto bruciare le ossa di un uomo morto da un migliaio di anni? chiese John Mason Siamo qui appunto per scoprirlo rispose Holmes La ricerca potrebbe essere lunga e non occorre che lei si trattenga Credo comunque che prima di domani mattina avremo trovato la soluzione Dopo che John Mason se ne fu andato Holmes si mise al lavoro Esaminò con estrema attenzione le sepolture che andavano da un'antichissima probabilmente sassone al centro a una lunga serie di defunti normanni fino a raggiungere il Sir Williams e il Sir Dennis Falder del diciottesimo secolo Ci volle un'ora o poco più prima che Holmes arrivasse a una bara di piombo appoggiata in piedi davanti all'ingresso della volta Udì il suo sommesso grido di soddisfazione e dai suoi movimenti rapidi ma precisi capì che aveva raggiunto un obiettivo con la sua lente stava esaminando attentamente i bordi del pesante coperchio dopodiché tirò fuori di tasca un piccolo grimaldello una sorta di aprescatole e lo infilò in una fessura facendo leva e spingendo indietro tutta la parte anteriore della bara che sembrava fissata solo con un paio di graffe si sentì il suono lacerante di qualcosa che si spaccava mentre il coperchio cedeva ma aveva appena girato sui cardini rivelando parzialmente il contenuto della bara quando ci fu un'interruzione imprevista qualcuno stava camminando nella cappella sopra di noi il passo deciso e rapido di qualcuno che arrivava con uno scopo ben preciso e che conosceva perfettamente la strada da seguire le scale furono inondate di luce e un attimo dopo un uomo si inquadrò nell'arco gotico era una figura terribile alta e minacciosa la grossa lampada da scuderia che reggeva dinanzi a sé illuminava dal basso un viso massiccio baffuto con due occhi erosi che scrutavano ogni recesso della cripta fino ad arrestarsi con uno sguardo micidiale sul mio compagno e me che diavolo siete tu o no e che ci fate nella mia proprietà poi dato che Holmes non rispondeva fece un paio di passi avanti alzando il pesante bastone che aveva con sé mi sentite gridò chi siete che ci fate qui il bastone vibrava nell'aria ma invece di arretrare Holmes avanzò verso di lui ho anche io una domanda da farle Sir Robert disse nel suo tono più severo che cos'è questo e che cosa ci fa qui si volse e spalancò il coperchio della bara alle sue spalle al bagliore della lanterna vidi un corpo avvolto in un lenzuolo dalla testa ai piedi con un orribile viso da strega tutto naso e mento con gli occhi vitri e appannati che ci fissavano da quella faccia sbiancata e sgretolata il baronetto era indietreggiato e stava barcollando gridando e appoggiandosi a un sarcofago di pietra come ne è venuto a conoscenza esclamò poi tornando ai suoi modi truculenti disse e a lei che cosa importa il mio nome è Sherlock Holmes rispose il mio amico forse lei è familiare in ogni caso il mio interesse è quello di qualsiasi altro buon cittadino far rispettare la legge e mi sembra che lei abbia molte cose di cui parlare per un attimo gli occhi di quell'uomo balenarono ma la voce pacata e il comportamento freddo e sicuro di Holmes sortirono il loro effetto davanti a dio signor Holmes è tutto a posto disse le apparenze sono contro di me lo ammetto ma non potevo agire diversamente sarei felice di crederle signore ma temo che le sue spiegazioni debba fornirle alla polizia in persona Sir Robert scrollò le ampie spalle bene se così deve essere così sia venga con me a casa e giudicherà lì stesso come stanno le cose un quarto d'ora dopo ci trovammo in quella che a giudicare dalla serie di canne di fucile lucidate a specchio dietro le tecche di vetro doveva essere l'armeria della vecchia casa era un ambiente comodamente immobiliato e qui Sir Robert ci lasciò per qualche minuto tornò accompagnato da due persone una la donna giovane florida che avevamo visto nella carrozza l'altro un ometto con la faccia da topo e con un comportamento spiacevolmente furtivo i due apparivano esterrefatti il che dimostrava che il baronetto non aveva fatto in tempo a spiegare la piega che avevano preso le cose dicendo esclamò la donna per conto mio declino ogni responsabilità disse il marito Sir Robert gli lanciò un'occhiata di disprezzo mi prendo io tutta la responsabilità disse e ora signor Holmes ascolti una pura e semplice dichiarazione dei fatti ovviamente lei è molto addentro ai miei fatti altrimenti non l'avrei trovata nella cripta quindi lei molto probabilmente già sa che ho iscritto un outsider al derby e che tutto dipende dal mio successo se vinco tutto si accomoderà se perdo invece beh non voglio neanche pensarci certo capisco la situazione disse Holmes io dipendo in tutto e per tutto da mia sorella Lady Beatrice ma è risaputo che il suo diritto alla proprietà è solamente vita natural durante in quanto a me sono totalmente nelle mani degli strozzini ho sempre saputo che se mia sorella fosse morta sarebbero piombati sulla proprietà come un branco di avvoltoi tutto sarebbe stato confiscato le scuderie i cavalli tutto quanto bene signor Holmes mia sorella effettivamente è morta una settimana fa e lei non lo ha detto a nessuno giusto? e che cosa potevo fare? davanti a me non c'era che la rovina se avessi potuto aspettare tre settimane tutto si sarebbe accomodato il marito della sua cameriera quest'uomo qui presente è un attore ci venne in mente mi venne in mente a dire la verità che per quel breve periodo avrebbe potuto impersonare mia sorella non si trattava altro che di farsi vedere ogni giorno in carrozza perché nessuno aveva motivo di entrare nella sua stanza tranne che la sua cameriera non era una cosa poi così difficile mia sorella è morta per l'idropesia che la tormentava da molto tempo questo dovrà decidere il coroner il suo medico confermerà senza dubbio che da mesi i suoi sintomi facevano prevedere questa fine e allora che cosa ha fatto? il corpo non poteva rimanere lì la prima notte Norlett ed io lo trasportammo alla vecchia stanza sul pozzo che oggi non è più in uso fumo però seguiti dal suo affezionato Spaniel che continuava ad abbagliare davanti alla porta quindi ritenne di dover cercare un posto più sicuro mi liberai del cane e trasferimmo il corpo nella cripta della chiesa non c'era nulla di indegno né di inriverente signor Holmes non credo di aver fatto nessun torto alla defunta a me invece la sua condotta appare imperdonabile Sir Robert il baronetto alzò le spalle con gesto impaziente è facile predicare disse forse nei miei panni l'avrebbe pensata diversamente non si può assistere al crollo improvviso di ogni speranza e di ogni prospettiva senza cercare una via d'uscita mi sembrò che non sarebbe stato un indegno luogo di riposo se per il momento l'avessimo deposta in una delle bare degli antenati di suo marito in quello che è ancora terreno consacrato aprimo dunque una delle bare ne togliamo il contenuto e come lei ha visto vi deponemmo mia sorella per quanto riguarda le vecchie ossa che avevamo tirato fuori non potevamo certo lasciarle sul pavimento della cripta Norlett ed io le rimuovemmo dopodiché lui scese di notte a bruciarle nella caldaia centrale ed ecco qui tutta la storia signor Holmes anche se ancora non riesco a capire come ha fatto a forzarmi la mano tanto da costringermi a raccontargliela Holmes rimase per un po' sovrapensiero dopodiché disse già una pecca nel suo racconto Sir Robert le sue scommesse sulla corsa e quindi le sue speranze per il futuro sarebbero valide anche se i creditori confiscassero la proprietà ma il cavallo fa parte della proprietà signor Holmes cosa importa loro delle mie scommesse molto probabilmente non lo farebbero nemmeno gareggiare purtroppo il mio principale creditore è il mio peggior nemico un farabutto un certo San Brewer che una volta fu costretta a frustare a New Market Heat crede che cercherebbe di salvarmi per caso bene signor Robert disse Holmes mentre si alzava naturalmente è necessario riferire questa faccenda alla polizia era mio dovere far luce sui fatti e a questo punto il mio compito è finito in quanto alla moralità o alla decenza delle sue azioni non sta certo a me esprimere un'opinione è quasi mezzanotte Watson e penso che potremo far ritorno alla nostra umile dimora tutti sanno che questo singolare episodio si concluse in modo migliore di quanto l'operato di San Robert meritasse so con Prince vinse il Derby San Robert incassò per le scommesse 80.000 sterline nette e i creditori non intervennero fino alla fine della corsa quando vennero pagati fino all'ultimo centesimo in ogni caso restò abbastanza denaro perché San Robert potesse riprendere la sua posizione di prestigio sia la polizia che il coroner non giudicarono la cosa troppo severamente e a parte una piccola munizione per aver ritardato la denuncia del decesso della signora il fortunato proprietario uscindenne da questo strano incidente in una carriera ormai sopravvissuta alle sue ombre e che promette di concludersi in un'onorata vecchiaia grazie a tutti grazie a tutti